Come fare foto nel 2024? Ragazzi, credetemi, sto facendo molta fatica a fare questo video, perché questo è un video dove non vi porto un argomento scelto da me, quanto piuttosto vado a tirare fuori un argomento che è emerso con prepotenza dai commenti di qualcuno, di più di un utente che mi ha fatto delle domande, e quindi ho deciso di fare un video proprio su questo argomento. Perché vi dico che faccio fatica a fare questo video? Faccio fatica perché è un argomento, da un lato per me banale, nel senso che non è una cosa tecnica, non è una cosa che sto studiando in questo momento, quindi è una cosa che per un fotografo esperto può risultare banale. Al tempo stesso mi costringe ad andare a vedere quali sono i trend fotografici, ed è una cosa che io detesto guardare i trend, perché i trend spesso e volentieri si allontanano da quella che è la fotografia pura per andare a immergersi in cose che sono frutto della cultura pop, e che quindi sono cose passeggere che probabilmente non dureranno. Infatti la cultura pop si modifica continuamente. E insomma, questo per me è un po' uno sforzo, ma lo faccio per voi, e quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, perché spesso e volentieri faccio delle gran faticate per portarvi dei contenuti, spero per voi, sempre interessanti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia prevalentemente per le aziende. Nel video di oggi andremo a indagare un pochino lo stato dell'arte della fotografia degli utenti, passatemi il termine, normali. Quindi non i megaprofessionisti, non persone che ci lavorano, ma le persone normali. E quindi andremo a vedere che tipo di foto sta facendo la gente, e come eventualmente si potrebbero, a mio parere, migliorare queste foto. Cominciamo con lo snocciolare un dato. Ovviamente è inutile che ve lo dica, ma le vendite di macchine fotografiche nell'anno passato, ovvero nel 2023, sono calate di parecchio. Quindi mentre una volta si vendevano un certo numero di macchine fotografiche, ultimamente quel numero è in calo. Questo calo è fisiologico ed è perfettamente normale, ed è dettato da un'infinità di fattori. Lo riassumiamo brevemente con due fattori, che secondo me sono esplicativi di tutto il resto. Primo, gli smartphone sono sempre migliori. Secondo, le fotocamere costano sempre di più. Ovviamente questi due dati messi insieme fanno sì che molta gente venga allontanata, respinta dal mondo fotografico. Molte persone che magari vorrebbero cominciare, fatemi sapere in un commento se c'è qualcuno tra voi che vorrebbe cominciare, ma non lo fa perché la macchina fotografica costa troppo e si arrangia con lo smartphone. Probabilmente ce ne sono, anche tra di voi che seguite i miei contenuti. Ovviamente se una persona normale, quindi non un fotografo, un utente qualsiasi che ha un account Instagram come chiunque, vuole fare qualche foto fatta un po' meglio, però si sente dire, guarda se vuoi una bella macchina fotografica devi spendere 4.000 euro e non è ancora finita lì, perché poi ci sono le luci, i treppiedi, i cavalletti, gli accessori, la gabbia, il rig, lo schermo, uno viene il mal di testa e dice sai che c'è, mi tengo il telefono cellulare e tanti saluti. E lo capisco ragazzi, lo capisco, se io non lavorassi con questa roba, ma col cavolo che me la comprerei tutta, me ne comprerei una, bella e basta. Invece siccome ci lavoro, ne ho diverse, perché a seconda di quello che faccio, le uso per cose diverse, però è il mio lavoro, io me le ripago, quindi so benissimo che per la maggior parte degli utenti non è così. E questo secondo me è un grande fattore determinante nell'allontanamento di molti utenti, anche nuovi, anche giovani, che si affacciano a questo mondo, ma che dicono io posso fare tutto con lo smartphone, d'altronde ci sono creator che fanno tutto con lo smartphone e la loro attività va alla grande anche se non hanno la super strumentazione, quindi la strumentazione non determina necessariamente il successo o l'insuccesso di un'operazione di comunicazione tramite immagini, e questo va detto. I costi della strumentazione sono assolutamente insostenibili per la maggior parte degli utenti ormai, perché se una volta, io mi ricordo quando compravo delle entry level, una volta ho comprato delle fotocamere entry level, mi ricordo che spendevo qualcosa intorno ai 540-650 euro, non di più. Oggi se vuoi un entry level del cavolo, con meno di 1000 euro non te ne vieni via, e magari non c'è nemmeno l'obiettivo incluso, e poi ti devi prendere la memory card, e poi la prima cosa che ti dicono è e sì però guarda che così hai preso il kit, però l'ottica kit fa schifo, quindi devi già comprartene un'altra, insomma è un salasso senza fine. Per questo motivo ovviamente la maggior parte delle foto che vengono prodotte oggi, ma di gran lunga la maggior parte, sono prodotte con smartphone. Questo che cosa comporta? Comporta tutta una serie di cose. Lo smartphone modifica il nostro modo di fare fotografia, perché se una volta, io mi ricordo i fotografi di una volta, andavano in giro col treppiede, col soffietto addirittura, col banco ottico, oggi abbiamo della strumentazione molto più portatile, quindi facciamo meno fatica a portarla in giro, lo smartphone porta all'estremo questa cosa, perché oltre a essere leggero, oltre a essere maneggevole, oltre a essere sempre con noi, ci permette di fare cose che prima non facevamo, ci dà delle idee che prima non avevamo. Lo strumento modifica il nostro modo di fare fotografia. In particolare io vedo dei trend che sono chiaramente derivati dall'utilizzo dello smartphone, e vi parlo in particolare di alcuni modi di fare ritratto, quindi il selfie, pensiamo al selfie, il selfie è un tipo di fotografia derivato dall'utilizzo del mezzo. Io vi posso dire che conosco dei fotografi che si facevano i selfie già anche con la macchina fotografica a pellicola, capitava, però era l'eccezione, era un tipo di foto su cui avevi poco controllo perché non vedevi come stava avvenendo, lo scoprivi solo dopo, una volta sviluppate, quindi non buttavi delle stampe per fare quel tipo di fotografia, non fotografavi i piatti che mangiavi, perché una volta costava sviluppare delle fotografie, quindi vedete che usare un mezzo fotografico diverso come lo smartphone ci porta a fare delle fotografie diverse, e porta utenti che una volta non avevano accesso a questo mezzo a fare dei tipi di fotografia che prima non si facevano. Una volta i selfie non esistevano, una volta le fotografie dei piatti non esistevano, cioè le fotografie di quello che stavi mangiando non esistevano, ci sono anche dei tipi di fotografia molto molto creativa. Vi porto per esempio il fotografo famosissimo, che non ha certo bisogno di essere introdotto da me, Jordi Koalitici, spero di pronunciarlo correttamente. Questo è un fotografo che realizza delle composizioni molto interessanti, molto creative. La derivazione delle sue idee, a mio parere, è molto smartphone. Infatti se vedete nei suoi video in cui fa vedere il making, lui la fotocamera la tiene così. Lui non guarda mai nell'oculare, lui è un fotografo di derivazione smartphone, passatemi il termine. Cioè lui ha imparato che determinate cose funzionano con una fotocamera usata a mo' di smartphone, e su questo si basa la sua creatività, tant'è vero che molte cose le fa direttamente con lo smartphone. Lo smartphone ci consente di realizzare delle fotografie laddove una fotocamera non potrebbe entrare. Degli anfratti molto piccoli, avvicinarsi molto ai soggetti, sono tutte cose che con lo smartphone riusciamo a fare perché è un mezzo fotografico più piccolo, mentre con una fotocamera non riusciremmo a farlo. E questo è un'opportunità creativa molto interessante, anche per me, ve lo dico senza nessun problema. Per contro però, e veniamo alle carenze dello smartphone, io trovo che lo smartphone tenda ad appiattire un po'. Appiattisce in che senso? Su tutti i fronti, nel senso che intanto con la pervasività del mezzo tutti quanti abbiamo visto i contenuti di Giordico Aletice e quindi tutti quanti glieli abbiamo copiati. Questo è un primo livello di appiattimento. Non c'è più la creatività, c'è la creatività di pochi, che in fondo erano pochi anche prima, però la diffusione del mezzo non ha comportato una diffusione della creatività, perché la maggior parte di noi sta solo copiando cose che ha visto da altri. E questo è un primo livello di appiattimento. Un secondo livello di appiattimento dipende dai soggetti. La maggior parte di noi fa delle fotografie, le posta su Instagram, vede che una fotografia ha successo, un'altra fotografia non ha successo, e quindi che cosa si fa? Regolaurea dei social, fai più di quello che ha già funzionato e scarta quello che non ha funzionato. E questo cosa significa? È un secondo livello di appiattimento. Significa che se io mi sono fatto una fotografia in un determinato contesto e quella fotografia ha preso un milione di like, farò solo fotografie uguali a quella per continuare a consolidare il mio successo e se mi vengono dei guizzi creativi di altre cose non li pubblicherò nemmeno, perché faccio delle prove, scopro che se faccio altre cose la gente smette di seguirmi, perché dicono no, noi ti abbiamo seguito per quella roba lì che è andata bene, se tu posti altra roba cominci a perdere follower immediatamente e quindi non lo fai più. Magari ti crei un altro account dove fai quello che vuoi, ma lì posterai sempre solo quella roba che ha funzionato. Secondo livello di appiattimento. Arriviamo poi a un terzo livello di appiattimento che è una cosa che io sto cercando di non fare, perché a me veramente non piacciono queste cose. Nel momento in cui comunque con i tuoi contenuti hai successo ecco che cominciano ad arrivare le aziende che ti fanno fare le sponsorizzate, qui stiamo parlando già di livelli medio-alti ovviamente, però a quel punto c'è un altro livello di appiattimento perché a quel punto diventa tutta una pubblicità unica. Ti fai solo foto con addosso le magliette del sito tal dei talli, ti fai solo video in cui indossi le scarpe di quell'altro, solo contenuti in cui dici sto usando questa roba di questo brand, quest'altra roba di quest'altro brand e diventa una pubblicità unica ed è molto piatto fare fotografia così. Diciamo che ci allontaniamo, progressivamente ci allontaniamo sempre di più dall'arte, dall'estetica e dal bello pur cercando di mantenerli all'interno dei nostri contenuti, se no la gente non ci segue più, quindi cerchiamo di mantenere qualcosina di quello che avevamo indovinato all'inizio, ma lo mettiamo al servizio solamente delle piattaforme, del mezzo e delle piattaforme. Quindi questo secondo me è la cosa negativa di lavorare con lo smartphone, essendo un mezzo così pervasivo nella nostra vita, nella nostra quotidianità, ci porta a modificare il nostro modo di fare fotografia, di pensare fotografia e di vivere la fotografia e la filosofia con cui affrontiamo questo bellissimo universo cambia completamente. Si passa da, siamo passati dal professionista che lo faceva per lavoro o l'amatore che però non era un amatore una volta, una volta chi aveva una macchina fotografica era semplicemente qualcuno che voleva dei ricordi. Quindi siamo passati da qualcuno che lo faceva di mestiere e da qualcun altro che lo faceva per i ricordi, siamo passati a chi lo fa per i like e siamo passati a chi lo fa per i soldi. E quindi è molto diverso, capite? Quindi nel 2024 la fotografia secondo me è mutata radicalmente perché vuoi o non vuoi, anche chi non è dentro in questi meccanismi, comunque ne viene influenzato. Comunque vedere, e penso soprattutto a chi è giovane magari ma non solo, chi è giovane e vede magari i suoi amici, compagni di classe, conoscenti o le persone che segue, che stima, vede i tipi di contenuti che vengono pubblicati, scatterà comunque un certo tipo di spirito di emulazione per cui si tenderà a cercare di emulare i contenuti che hanno funzionato da parte di creator più grossi. Questo ci porta inevitabilmente ad abbattere la nostra creatività e a entrare dentro in un loop dove noi non stiamo ricercando la purezza formale della fotografia, non stiamo cercando la bellezza, l'estetica, ma stiamo solo cercando quello che funziona. Quello che funziona in senso proprio commerciale, nel senso che se io vi faccio, lo riporto anche su di me, se io vi faccio un contenuto in cui vi parlo di una fotocamera, io so che il video andrà bene. Se io vi faccio un contenuto in cui vi parlo della mia filosofia di scatto col treppiede, o se io vi parlo di come si usano i filtri, o se io vi parlo di come fare la postproduzione sul bianco e nero, io so già che quel video va meno bene perché, e non ne faccio una colpa a voi, però globalmente, ma lo sapete anche voi, se io parlo di creatività, parlo di fotografia, il video va male. Mentre se io parlo di una fotocamera, il video va bene perché la gente è abituata a questo loop di consumismo e quindi vuole l'oggetto, vuole la merce. E quando questa cosa manca, e quando un contenuto, invece di farti vedere un oggetto che devi comprare, ti stimola una riflessione, fai più fatica, e quindi un numero minore di persone fruisce un contenuto del genere, e quindi un numero minore di persone avrà la cultura necessaria a sviluppare un processo di elaborazione di immagini che lo porti a elevare i suoi contenuti al di sopra della media. E questo è un peccato. Ovviamente non è colpa dello smartphone. Lo smartphone lo uso anch'io, lo usiamo tutti, è uno strumento bellissimo. Diciamo che questo è causa di come lo smartphone influenza il nostro modo di fare e di pensare fotografia. Come possiamo uscire un pochino da questo loop? Vi dico una cosa banalissima. Secondo me, avere una macchina fotografica vera, non a pellicola, non dico di prendere una Polaroid o un Hasselblad o un banco ottico, una macchina fotografica normale, secondo me già ti tira un po' fuori da questo loop. Per un sacco di motivi. Nel momento in cui scatti con una macchina fotografica non puoi postarla direttamente sui social, almeno non ancora. Quindi quando scatti con una macchina fotografica non sei lì subito con la scimmia di postarla. E questo è un grosso vantaggio. Perché puoi riguardartela, sai che non la stai pubblicando immediatamente, sai che dovrai tornare a casa prima di pubblicarla e quindi sai che hai tempo. E questo tempo lo puoi sfruttare anche per ragionarci e per dire posso farla meglio, posso togliere il bidone dell'umido da dietro che fa schifo, posso mettere la luce un pochettino più a favore, posso migliorare delle cose. Inoltre scattare con una macchina fotografica ti mette in condizione di ragionare sui parametri di scatto. Questa sembra una stupidata, però quando io faccio i miei video ho dei parametri ben precisi che sono sempre quelli e li ho scelti apposta uno per uno o addirittura messo un filtro ND sul mio obiettivo per bilanciare l'esposizione. Quindi è molto ragionata l'esposizione che io ho qui nel mio ufficio. Voi direte è una cavolata, l'hai fatta a caso. Può sembrare che sia così, può sembrare casuale che mi sia venuta fuori a caso e per quelli di voi che hanno pensato che mi fosse venuta fuori così a caso vi ringrazio della stima, ma purtroppo non sono così bravo da indovinare un setup come questo a caso al primo colpo. Tant'è che se andate a vedervi i miei video recenti di inizio 2024 vedrete che ho fatto delle modifiche per arrivare a questo setup. Ho cominciato in un certo modo, ho fatto delle prove e poi riguardando i video col tempo ho modificato delle cose per arrivare a questo risultato che mi piace abbastanza. Quindi nessuno è perfetto, nessuno indovina niente, ci sono delle regole, però si imparano pian piano, non bisogna saperle tutte subito. L'importante è pensarci per migliorare i nostri contenuti. L'immagine è cultura. Nel momento in cui noi proponiamo qualcosa, se lo facciamo buttandola lì, possiamo aver indovinato qualcosa che per come vanno i social oggi spesso e volentieri quel qualcosa che abbiamo indovinato è solamente il nostro corpo. Però questa è una cosa che per quanto sia facile replicare è una cosa che difficilmente fa trasparire la nostra cultura perché nel momento in cui il nostro soggetto è una cosa improvvisata che ci è venuta per caso stiamo semplicemente amplificando la nostra comunicazione ma senza migliorarla. E questo è un peccato. Questo ovviamente io ne faccio un discorso generale che vale per tutti perché qualunque cosa stiamo fotografando che il nostro intento sia condividere una torta, una crostata che abbiamo appena fatto oppure diventare famosi. In entrambi i casi avere una buona cultura dell'immagine ci aiuta perché se noi abbiamo una buona cultura dell'immagine una foto della crostata che abbiamo appena fatto potrebbe essere ripostata perché è fatta molto bene e la nostra ricetta potrebbe essere apprezzata da più persone. Per questo avere una cultura dell'immagine secondo me è utile nel 2024 e poi anche perché è bello ragazzi è bello avere una cultura dell'immagine capire determinate cose determinate dinamiche è bello è appagante quindi nel momento in cui tutti quanti abbiamo uno smartphone potenzialmente tutti quanti siamo fotografi in realtà io li chiamo fotografanti perché il fotografo è uno che sa quello che sta facendo il fotografante è uno che preme e basta però noi possiamo diventare tutti fotografi possiamo fare quello step in più non professionisti magari non c'è bisogno di diventare professionisti e di farsi pagare ma possiamo fare quello step in più per migliorare quello che stiamo facendo e diventare di fatto dei bravi fotografi anche se non lo facciamo di mestiere però è una questione di cultura secondo me avere una macchina fotografica è il primo step studiare qualcosina guardare le fotografie di altri è un secondo step fotografie di quelli bravi ovviamente andiamo a vederci magari qualche manuale di fotografia qualche libro d'arte fotografica si impara tanto dal vedere gli altri che cosa hanno fatto studiamo la storia dell'arte ragazzi sembra una stupidata ragazzi però guardate che gli schemi di illuminazione che si usano oggi derivano dagli schemi di illuminazione che usavano i pittori di una volta quindi andiamoci a studiare le opere d'arte andiamo a vedere la luce formante di Caravaggio andiamo a studiare come usavano la luce una volta perché avevano già capito tutto a un livello tale che oggi non stiamo facendo altro che replicare quello che gli artisti di una volta avevano già capito e codificato e se noi queste cose le studiamo nel momento in cui stiamo facendo una fotografia e c'è qualcosa che è palesemente brutto palesemente rovina l'estetica ce ne accorgeremo e con un accorgimento minimo andremo a migliorare la nostra fotografia a renderla più accattivante col risultato che se lo stiamo facendo per puro piacere edonistico il nostro piacere edonistico sarà maggiore se lo stiamo facendo per un tornaconto economico o di visibilità questo tornaconto sarà maggiore quindi ricapitolando come miglioriamo la nostra fotografia nel 2024 secondo me smettendo di usare solo lo smartphone usiamo anche lo smartphone ma una fotocamera è un ausilio fondamentale se vogliamo alzare l'asticella non seguiamo eccessivamente i trend che vediamo proposti da altri cerchiamo di farci venire delle idee nostre le idee nostre pagheranno molto di più rispetto a delle idee copiate cerchiamo di studiare cerchiamo di non spegnere la mente guardando i contenuti degli altri ma cerchiamo piuttosto di farci venire delle idee ritornando alle radici ritornando alla base ritornando a quello che è stato codificato centinaia di anni fa e che viene universalmente riconosciuto come bello se noi studiamo quello che è universalmente riconosciuto come bello con una bella estetica saremo poi in grado di riprodurlo nei nostri lavori e il risultato sarà che di fronte alla platea di persone che non studiano niente che quindi queste cose non le sanno noi sembreremo dei geni e in realtà siamo solo dei nani sulle spalle di un gigante signori con questo contenuto io spero di non avervi annoiato perché mi rendo conto che è un contenuto un po' diverso dal solito fatemi sapere in un commento se avete apprezzato iscrivetevi al canale se volete farmi capire che avete apprezzato tanto un like a questo video e parimenti cosa gradita io come sempre vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi ringrazio e vi ringrazio